Allora, dicevamo, la classe dirigente della destra nel nostro paese. Da sei giorni, da quando è stata pubblicata questa inchiesta di fanpage su Fratelli d'Italia, nessuno ha parlato. Allora, Massimo Giannini, qui scherzi a parte, rimane una grande questione di fondo. Non è un caso isolato quello di fanpage, perché ti voglio far sentire Carmine Alfano, candidato sindaco di Torre Annunziata. Senti che cosa ha detto sui gay. I gay nel forno crematorio. E questo è un messaggio, poi altro vedremo.